Sono a Castelvolturno, sto girando un'intervista meravigliosa con un personaggio fantastico che è Pasquale Mazzocchi! Ciao Pasqui! Stiamo parlando un po' di musica, ci vedrete presto sul canale YouTube ufficiale del Napoli, però Pasquale, mi fai gli auguri, bocca al lupo, buona fortuna... Frate, si forte, magnate il Napoli sta con te! Al nostro amico fraterno Jolier Emanuele, siamo con te! Si forte!